salve a tutti oggi vorrei parlare di un libro che per quanto non l'abbia trovato un capolavoro forse nemmeno un libro bello nel senso stretto del termine è comunque un'opera di cui ho intenzione di parlare perché la ritengo abbastanza interessante e senza dubbio anche un'opera che a suo modo è eccentrica e che si ricorda al di là del suo valore strettamente letterario anche perché suscito un enorme scandalo al momento della sua uscita originaria nel 1996 e si creò un mistero attorno insomma riguardo la sua la sua scrittura e il suo autore il libro in questione è lì la dice lì la dizza di cimo forse è stato proprio il nome dell'autore ad avermi accattivato all'inizio no un mononimo mononimo estremamente semplice e che appunto mi profumava forse di pseudonimo e così più o meno è stato insomma il retro del libro l'antiporta anzi riporta che l'autore sia presumibilmente un ragazzo delle pallie 19 anni originario del maghreb che vive in francia quindi insomma uno dei tanti figli di immigrati che andando a vivere insomma crescendo nelle nelle periferie più disagiate parigi si trovano spesso a combattere con situazioni di disagio molto molto grande sia da un punto di vista economico che da un punto di vista educativo sociale religioso anche eccetera il libro come riporta l'introduzione da parte dell'editore originale francese dice che insomma l'editore in questa nota racconta di aver ricevuto tramite un avvocato e una piccola pila e quadernetti rossi a quadretti classici classici quaderni scolastici in cui vi era riportato un racconto una narrazione e il protagonista di questi eventi era questo cimo il quale si si ferma si firmava in questo modo quindi lasciava anche intendere che il contenuto di che il contenuto di queste agendine fosse autobiografico l'editore ha trovato il materiale all'interno di questi quadernetti estremamente interessante e ha deciso di pubblicarlo il punto qual è il punto è che già l'editore in sé mette in dubbio effettivamente l'attendibilità di attendibilità di quest'opera nel senso che viene il dubbio all'editore appunto se l'opera sia realmente l'opera di un ragazzo del balier semi illiterato oppure se dietro si cieli uno scrittore affermato che in un modo o nell'altro ricostruisce alla perfezione la lingua lo slang aggiunge un po di un po di ingenuità quella fine di rendere più realistico il la forma oltre che il contenuto in sé insomma ad oggi dopo sei quasi una trentina dalla sua pubblicazione originaria non si sa ancora niente riguardo il vero autore di questo romanzo non si sa quindi se insomma se l'opera è vera o se una diciamo una bufala ben architettata sta di fatto che il libro alla sua uscita ebbe un successo enorme 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 e fu tradotto in numerosi in numerose lingue fra cui anche in italia qui usci prontamente per la mondadori quindi al di là del mistero in sé il libro com'è il libro di cosa parla inoltre ecco il libro è appunto un racconto autobiografico così almeno si pone un racconto raccontato in prima in prima persona di questo ragazzo delle balie di origine nord africana che incontra lila la ragazza che dà il titolo al libro una ragazza francese biondissima super sexy che insomma si è trasferita recentemente nella zona in cui abita cimo e sin dall'inizio si crea una tensione erotica fra i due personaggi lila ha un suo modo di parlare un po dall'olita che molto esplicito provocante questa cosa arriva a creare un turbinio di emozioni di vario tipo nel narratore e si vengono poi a creare delle situazioni erotiche insomma esplicite sì ma mai raccontate con volgarità e la lingua poi la fa molto diciamo che la lingua riesce bene a creare l'atmosfera la lingua è molto spezzata essenziale esattamente come un diario di una persona che magari può avere ambizioni letterarie ma che non ha alcuna esperienza mettiamola in questo modo e spesso alcune parti sono sono quasi incomprensibili ma non credo che sia un problema un problema di traduzione quanto piuttosto credo che sia proprio una caratteristica del romanzo in sé già nell'introduzione infatti da parte dell'editore si si sottolinea di come l'editore abbia rimediato corretto alcuni errori grammaticali quella ma che abbia deciso di ma di mantenere inalterata la lingua senza alcuna forma di editing e di lasciare anche le frasi che almeno all'interno dei quaderni originali sembravano dubbia a livello di a livello di contenuto quindi diciamo che ogni tanto all'interno del romanzo alcune frasi apparentemente strane poco chiare vanno a creare un'atmosfera un po un po infantile forse oltre che dare a suo modo una forma di realismo insomma alla storia riguardo diciamo l'attendibilità dell'autore di questo romanzo è un romanzo che è molto crudo indubbiamente perché al di là del discorso del linguaggio esplicito al di là di alcune situazioni erotiche insomma il personaggio di di lila appare come ambiguo appare come un pare come una una ragazzina che in ogni caso arriva a tentare il protagonista da un punto di vista sensuale ma allo stesso tempo appare in realtà come una persona che non si riesce bene a determinare un personaggio che in ogni caso è costruito molto molto bene ma che non si capisce quando sia ingenuo quando tenti di approfittarsene insomma sembra che di tutti i personaggi del romanzo ad esempio gli amici di gli altri amici di cimo vengono in qualche modo affascinati da questa ragazza ma non riescono mai a accoglierla insomma non riescono mai a cogliere definitivamente la personalità di questa ragazza quale sembra una ragazza molto aperta insomma anche molto disponibile ovviamente quindi un sacco di ragazzi inizieranno a provarci con lei ma lei sembra avere un certo tipo di interesse un po' ambiguo solo però nei confronti di cimo il narratore si vengono quindi a creare delle situazioni anche un po' bizzarre e grottesche forse ad esempio in un momento abbastanza imbarazzante diciamo del romanzo la protagonista arriva a chiedere a cimo il narratore appunto se riesce a trovare una telecamera al fine di poterla filmare mentre lei ha dei rapporti sessuali insieme ad altre persone quindi ovviamente il personaggio di cimo il quale inizia a provare un'attrazione sempre più forte forse anche più sincera in qualche modo eppure un interesse romantico appunto nei confronti di lila inizia diciamo a sentirsi sconvolto ovviamente a questa situazione e deciderà in ogni caso a una certa di provvedere a trovare i soldi al fine di riuscire a permettersi una telecamera quindi in qualche modo continuare a star vicino a lila anche se ovviamente in una situazione un po' un po' estremo un po' particolare e quindi in qualche modo è imbarazzante insomma senza arrivare a fare spoiler ovviamente anche perché è un romanzo che è molto molto semplice l'azione è minima e si parla forse di macro sequenze e forse una gran parte del romanzo viene fatto un po' dall'atmosfera un po' dei dialoghi più che dalla storia in sé però ovviamente forse non ovviamente ma come è facile da immaginare il romanzo avrà delle ripercussioni un po' tragiche insomma sarà estremamente cupo il finale ciò ha contribuito indubbiamente a creare anche un certo tipo di controversie insieme a forse alcune riflessioni di Cimo in generale che potrebbero diciamo provenire forse genuinamente dal suo entroterra sociale e culturale oppure essere delle diciamo affermazioni furbe messe da qualche altro editore o da messe scusa da qualche altro autore o dall'editore stesso il quale spesso è stato accusato di essere appunto il vero autore del romanzo in questione il finale quindi indubbiamente è tragico molto cupo ma forse per quanto prevedibile anche l'unico logico che poteva esserci riesce a dare una chiusura molto forte al romanzo e dico molto forte anche dal punto di vista emotivo infatti è quel genere di finale che per quanto te lo aspetti ti sconvolge comunque anche perché è scritto davvero bene quindi in sostanza mi sento di dire che questo piccolo misterioso libretto nel caso è molto interessante e si merita una lettura secondo me adesso che ovviamente l'hype del caso editoriale si è esaurito da più di vent'anni insomma ma ecco sembra che il romanzo abbia avuto suo modo molti epigone all'interno della letteratura francese e poi diciamo che non conosco abbastanza la letteratura francese contemporanea al fine di poter dire effettivamente quanti e se altri libri sono stati ispirati da questo lì la dice sta di fatto che nel 2004 venne realizzato un film che ho visto proprio ieri è bizzarro insomma è particolare soprattutto a non considerare il romanzo diciamo che è una rilettura un po' più soft insomma della storia in questione la quale viene ambientata a Marsiglia invece che dentro una baliera di Parigi quindi diciamo che si va che insomma si modifica un po' l'ambiente in qualcosa di più fra virgolette accettabile forse forse in qualche cosa più di politicamente corretto insomma di quando quando si va a parlare di insomma di degrado sociale ovviamente la situazione di Marsiglia che è sempre stata una città a suo modo aperta accogliente internazionale è diversa ovviamente dalla situazione delle periferie più povere e disagiate della capitale francese insomma è un romanzo è un film quindi che si ha una bella atmosfera con questa diciamo una Marsiglia soleggiata no e insomma è piena di vita e super realistica allo stesso tempo non lo so si è tentato forse di ammorbidire un po' troppo l'atmosfera del romanzo andando a cambiare andando a cambiare abbastanza il finale insomma e alcuni dei momenti un po' più controversi però insomma è un film è un film accettabile però è consigliabile essenzialmente a chi ha letto il libro quindi ecco una cosa che a me ha suscitato alcuni dubbi mi riferisco appunto riguardo all'autore di questo libro io non mi sono fatto un'idea specifica diciamo ma secondo me alcune riflessioni alcuni alcuni pezzi passaggi vari del romanzo più riflessivi secondo me vanno a tradire insomma una cultura più aulica non so poi come leggerlo in francese ovviamente e quindi se questa cosa si nota di più ma non lo so ho notato alcuni orpelli letterari che secondo me non sono o almeno è difficile che siano frutto di una persona che come dice l'autore stesso del romanzo non ha mai letto un libro intero in vita sua ma diciamo che il insomma il dubbio rimane secondo me cioè inizio a pensare che non sia effettivamente un'opera reale nel senso che non sia davvero una vera autobiografia però rimane senza dubbio un'opera interessante un esperimento molto diciamo avvincente curioso e anche abbastanza eccentrico sia che sia stato scritto diciamo per diciamo sia per un reale spirito artistico per semplicemente per vendere insomma e per creare un hype scandaloso una cosa che secondo me lo frega molto a livello di a livello di credibilità è il fatto che lo stesso anno dell'uscita del primo libro anzi meno di un anno dopo insomma uscì un seguito che in Italia uscì con questo nome il ricordo di Lila che è fatto spudoratamente al fine di seguire il successo del primo libro in quanto il personaggio di Lila è estremamente secondario all'interno di questo romanzo infatti il titolo originale tradotto dal francese sarebbe Ho paura je pe e racconterebbe il successo di il successo di Cimone viene sempre scritto presentato come un romanzo scritto da sempre da questo da questo stesso personaggio misterioso autore che ritrovato improvvisamente ricchissimo dal successo del primo libro viene spinto dalla casa editrice a pubblicare in fretta e furia un altro romanzo in cui lui racconta della sua situazione diciamo da scrittore realizzato in un modo o nell'altro che avendo fatto un sacco di soldi fa un cattivo investimento con un presunto guru finanziario che in realtà arriverà insomma a a fregarlo e Cimone quindi si troverà invischiato in un mondo anzi in un sottomondo fatto di fatto di criminali prostitute insomma e e ulteriori situazioni sia erotiche anche però molto forse ancora più degradanti nel primo romanzo si va a puntare di più l'accento forse sulle tematiche impegnate sociali che in ogni caso vi erano già nel primo libro ma vengono diciamo ulteriormente evidenziate poiché sia qualcosa di volontario o meno ovviamente un altro discorso però l'ho trovato davvero brutto cioè il seguito l'ho trovato abbastanza brutto a parte alcune scene un po' nel finale che danno l'idea di un sottomondo in cui si parla di ad esempio un club omosessuale Sadomaso mi ha ricordato un po' le scene iniziali di Reversible e Gaspar Noé siamo un po' a quelle parti insomma anche da anche semplicemente da un punto di vista storico e geografico perché comunque stiamo parlando della periferia di Parigi alla fine degli anni 90 quindi però ripeto l'ho trovato un romanzo un po' un po' bruttino e immagino che sia stato fatto più per seguire il successo del primo libro appunto più che altro e in effetti poi non si è mai più sentito altro venire da questo cimo ammesso che appunto esista o no quindi ecco assolutamente da dimenticare però se volete una lettura un po' particolare soprattutto molto molto breve perché si parla di 130 pagine circa Lila dice è un libro che consiglio insomma l'ho trovato molto molto affascinante in ogni caso so che è un libro che comunque è diviso molto quindi mi piacerebbe anche sapere il parere di qualcun altro che ha avuto la possibilità e la fortuna di leggerlo su internet si trovano alcune recensioni ma non abbastanza insomma da soddisfarmi diciamo quindi se qualcuno ha intenzione di scrivere un commento a riguardo sarei stra curioso di sapere un giudizio vostro riguardo appunto il libro in questione se vi è piaciuto se non vi è piaciuto se ritenete attendibile la storia oppure se pensate che sia una bufala una castroneria fatta solo per vendere insomma fatemi sapere e quindi alla prossima volta ci sentiamo un giudizio